Il mondo della scuola torna in piazza. Il 7 novembre ci sarà un sit-in dinanzi alla prefettura organizzato dai sindacati FLCCGL Willes-Nals-Confsal. I sindacati chiedono più personaleate e amministrativi. Ci sono carenze infatti sia di ausiliari che di amministrativi negli istituti del territorio provinciale. Un sottodimensionamento che ha assunto contorni drammatici per i sindacati, aggravato, dicono, dalla mancanza di risposte da parte degli uffici scolastico provinciale e regionale. Insomma, un contenimento della spesa anche a fronte di situazioni emergenziali. Questa sembra essere la linea non gradita alle sindacaliste del biondo commito e lupi. Il venir meno dell'organico covid ha fatto venire fuori infatti tutte le carenze strutturali che la presenza di questo aveva in qualche maniera tamponato. I problemi della scuola sono tanti. Are interne, inadeguatezza dei MOSP, edilizia scolastica fatiscente, nuovi edifici, per la verità, pochissimi come tristemente noto, che hanno spazi enormi e quindi fanno emergere ancora di più la necessità di maggiore organico. Serve personaleata, asiliario e amministrativo, insistono. I sindacati denunciano anche il fatto che gli uffici scolastici chiudono le relazioni con i sindacati. Per loro invece c'è il dovere di difendere il personale della scuola, chiamato a svolgere un rari di servizi fuori dalle norme contrattuali, doppi turni, straordinari che diventano ordinari. Anche la risposta dei 16 posti in deroga a fronte di 47 scuole è apparsa inadeguata. Il personale deve ruotare su un gran numero di plessi per garantire il servizio. Il caso di Naveglia è emblematico. L'istituto comprensivo, nonostante il decremento di alunni, deve garantire l'apertura del servizio su ben 17 plessi distribuiti su cinque comuni e la soluzione per i sindacati non può essere certo quella di chiudere le scuole ma piuttosto di rivedere i parametri di assegnazione degli organici, così da costruire una rete virtuosa di servizi per le scuole che ponga queste al centro anche delle aree interne. Per questo si invitano i lavoratori e lavoratrici della scuola alla mobilitazione il prossimo 7 novembre alle 12 davanti alla prefettura.